Giovedì 10 maggio partirà la sesta tappa del Giro d'Italia da Caltanissetta, una 163 km Caltanissettenna, Alta Montagna. Il Giro d'Italia 2018 vedrà la luce a Milano, l'edizione 101 della Corsa Rosa scatterà venerdì 4 maggio con una crono individuale di 10 km a Gerusalemme, in Israele. Si disputeranno anche la seconda e la terza tappa prima del trasferimento in Sicilia, la chiusura il 27 maggio a Roma, dopo le prime tre frazioni il Giro d'Italia ripartirà da Catania con una tappa di 191 km con arrivo a Caltagirone, poi si ripartirà da Grigento fino a Santa Ninfa, la terza tappa sull'isola presenterà il primo arrivo in quota sull'Etna.